Per ottenere buoni risultati in cucina bisogna conoscere tutti i passaggi di una ricetta. Anche per fare la differenziata c'è una ricetta molto semplice, basta seguirla, basta sapere che gli scarti alimentari vanno raccolti nel bidone dell'umido, quelli marroni, nube sbagliate. Nella mia cucina lo sanno tutti e ognuno fa la sua parte, è vero o no? Verissimo. Tu avanzi qualcosa? Allora falla questa differenziata e fai la tua parte. Adesso tocca a te. Realizza un video in cui spieghi ad amici e parenti come differenziare l'umido. Potresti essere il vincitore del nostro contest. Partecipare è semplice. Segui la ricetta.